C'è qualcosa in ognuno di noi che ci orienta, una bussola interiore che ci spinge a trovare la nostra strada. Segui il gobi di letto scelta, sarà incredibile scoprire quanto lontano puoi arrivare. Bex, segui la tua bussola. Bella, bellissima. Facciamo un banto e potrei avere l'auto e molto, molto di più. Carisma, talento, coraggio. Allora, firmi. No, grazie, posso farcela da solo. Nuovo CLA, mettici l'anima. Nell'iscioma, Marcella Stato.